Ciao. Ti fai vivo dopo tutto questo tempo? Ti presenti a quest'ora o vuoi pure parlare? Di che cosa vuoi parlare, Rino? Di noi. Però prima voglio farti vedere una cosa. Dai, ma che cosa... Un attimo, un attimo, fidati. Vieni con me. Dai, vieni con me un attimo. Ti faccio vedere una cosa meravigliosa. No! Ma è bellissima! È bella. È sembra un ferro d'ossero, ma sì. Non hai visto la cosa più forte poi? Sali un attimo. Dai. No, non è bella. E' stupenda. Mirena, a me pare che ti amo. Ma dai. Mirena che te non sei matto come un cavallo, ma mi sa che ti amo anch'io.